facciamo capire mettiamo sub esattamente andiamo con il terzo andiamo un minuto di pezzi andiamo ai cammini e facciel e sentite noi su 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 iniziamo con la mano sinistra wow 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 che so 2 40 mano 2 Vieni, vieni dall'altra parte Vieni, vieni Wow, iniziamo bene, iniziamo bene Secondo passo e ancora più spazio Tutte le mani rimanano a vedere Tutte le mani rimanano giù E facciamo quattro foglie Uno, due, tre, quattro su Uno, due, tre, quattro giù Uno, due, tre, quattro su Uno, due, wow Super, calda, calda, calda Let's do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 15mm. Grazie a tutti, mi piace, ma non ci batte nessuno, bravissimi! Ora, tutto quanto, buona musica, insieme a noi con un bel sorriso per le nostre gambe, andiamo Hollywood! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.